Buongiorno a tutte e tutti. Oggi ci occupiamo di capire come si descrive un circuito elettrico mediante il concetto di netlist. Perché facciamo questo? Il mio obiettivo è quello di mettere chi sta ascoltando nelle condizioni di poter utilizzare questi due progetti. Il primo progetto è Spy Spy, è un simulatore circuitale scritto in Python, si può installare facilmente e mediante un semplice script è possibile simulare un circuito descritto mediante una netlist. Quest'altro progetto che si chiama Spy Spy Bot si presenta sotto forma di bot di Telegram. Telegram è abbastanza nota come piattaforma di messaggistica. Si apre una chat con il bot, si spedisce al bot la netlist che descrive il circuito, il bot in output vi restituisce la simulazione circuitale. Entrambi i progetti sono open source e ciò che vi sto per raccontare in questo video è ampiamente descritto nella documentazione del progetto Spy Spy. Questo significa che se voi andate sulla pagina GitHub dove c'è questo progetto nella documentazione esiste una wiki con tutte le informazioni che io qui andrò a riassumere in questo video. In realtà tutte e di più, anche di più di quello che dirò in questo video. In ultimo, e poi passiamo agli argomenti, io sto utilizzando una presentazione di supporto che andrò anche a editare, a scriverci sopra. Alla fine metterò un link nella descrizione di questo video da cui lo potrete scaricare e, me ne stavo dimenticando, realizzerò altri due video di cui metterò il link in descrizione sempre a questo video per descrivere l'utilizzo di Spy Spy e l'utilizzo di Spy Spy Bot. Procediamo quindi con l'argomento di questo video, cioè la netlist. Come si rappresenta un circuito in un software Spy Spy? Allora questo termine me l'avete già sentito dire più volte nei due progetti precedenti, quindi impariamo cosa significa. Spy Spy significa Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis. È un concetto nato negli anni 70, quando si stavano sviluppando i software Spy, sono software che sono in grado di risolvere circuiti tipicamente implementando il metodo dei nodi modificato. Ora, al di là di queste technicalities, esistono diversi software che sono in grado di fare questa cosa. Io qui vi ho riportato lo screenshot di un software che si chiama LTSpice. È un software gratuito che si presenta con un'interfaccia grafica, quella che vedete qua, in cui potete disegnare un circuito così come lo andreste a disegnare su carta. Qui vediamo un generatore di tensione, con un resistore ed un induttore. Ora, questo non è diverso da quello che noi rappresenteremo su carta. Cosa succede però dietro le quinte? Nel momento in cui noi andiamo a salvare questo file, che come vedete qua si chiama circuit.asc, questo file va ad essere salvato nella posizione desiderata da voi sul vostro hard disk. Nel momento in cui lo simulate, si viene a creare anche un file di questo tipo, circuit.net. Che cos'è questo circuit.net? È un file leggibile dall'occhio umano. Quindi se voi lo aprite con una semplice applicazione su Windows, potrebbe essere Notepad, lì dentro trovate delle cose leggibili. E cosa ci trovate? Beh, ad esempio, per me è abbastanza semplice individuare che compaiono i nomi dei tre compagni, componenti che qui avevamo rappresentato. Il generatore di tensione, il resistore, l'induttore. Se andiamo a vedere il resistore, compaiono la lettera B e la lettera A, che sembrano essere proprio i nodi tra cui è connessa questa resistenza, questo resistore. E non solo. Qui mi pare che compaia anche il valore di questo resistore, che chiaramente sono due ohm. L'unità di misura è implicita nel fatto che stiamo parlando di una resistenza. Dopodiché ci sono altre cose. Qui c'è apparentemente il percorso dove abbiamo salvato sul nostro computer il file. E qui c'è un'altra cosa che adesso magari è un pochettino difficile da comprendere, ma la vediamo anche qua e scopriremo che questa cosa serve per dire al solutore cosa vogliamo in output. Detto questo, cominciamo a capire che ad una rappresentazione grafica corrisponde un file, un file di testo. Ed è proprio questa la netlist. Possiamo pensare ad una netlist come ad una descrizione testuale di un circuito. Quindi la netlist è, se vogliamo, un file. Questo file è un file a cui tipicamente si dà un'estensione .net per far capire all'utente cosa c'è lì dentro, ma è un file di testo. Quindi potrebbe essere anche un file .txt. Non cambierebbe nulla dal punto di vista della gestione di questo file. La netlist descrive sia la topologia che le equazioni costitutive. L'abbiamo visto poco fa che per il resistore che abbiamo preso ad esempio, eccolo qua, noi abbiamo descritto sia come era connesso, cioè tra A e B, sia il fatto che è un resistore, quindi la sua natura, e diamo un valore alla resistenza, che in questo caso sono 2 Ohm. Quindi comprende informazioni sia della topologia che delle equazioni costitutive. Dopodiché ogni elemento viene descritto in una riga della netlist. Ad esempio questo file viene rappresentato qua, dove vediamo chiaramente una, due e tre righe, che sono chiaramente tre componenti. Il componente V1, il componente R1, il componente R2. Possiamo immaginare, anche se non abbiamo ancora descritto per filo e per segno come funzionano questi componenti, che questo sia un generatore di tensione e questi due resistori. La potenza vi ho detto che c'era questa linea qua un pochettino un po' complicata. Qui la linea è differente, ma è sempre presente. .op dirà al nostro solutore cosa desideriamo in output. E poi possiamo anche mettere dei commenti. Qui, ad esempio, vedete un commento. In questo file vi si dice che è l'esempio di una netlist. Nel caso precedente, invece, questo commento vi diceva dove era posizionato questo file sul vostro computer. Quindi questo, in sintesi, sono i tratti somatici di quella che è una netlist. Come si descrivono gli elementi? Abbiamo detto che ogni elemento occupa una riga della netlist. Gli elementi sono descritti da un nome e da un numero. Il nome è tipicamente una lettera. Abbiamo visto, ad esempio, la lettera R per un resistore. Il numero chiaramente identifica a che componente ci stiamo riferendo. Se ci sono dieci resistori avremo R1, R2, R3, fino ad R10. Due nodi. Un nodo scelto come convenzionalmente positivo e uno come convenzionalmente negativo. Il nostro bipolo è connesso tra due nodi. Li dobbiamo elencare. Un valore senza unità di misura, perché l'unità di misura è implicita in funzione dell'elemento che stiamo descrivendo. Come prima abbiamo scritto solo due quando erano due home. Ed alcune variabili ausiliarie, che qui non specifico, che potrebbero esserci oppure no a seconda del componente. E qui vedete descritto tutto quanto vi ho detto, per cui non mi dilungo oltre, ma vado a quanto potete vedere qua sotto, che è molto importante. Tutti gli elementi di rete sono analizzati in convenzione degli utilizzatori. Tutti, nessuno escluso. A prescindere dal fatto che siano passivi, attivi, resistori, condensatori, induttori, generatori di tensione, generatori di corrente, tutti verranno analizzati in convenzione degli utilizzatori. Bisogna tenere a mente questa cosa per interpretare in modo corretto i risultati. Andiamo a vedere la carrellata di componenti per capire come devono essere descritti, ma analizzando questa rappresentazione, cioè il resistore R5 di valore 3.4 Ohm connesso tra il nodo F e il nodo 0, apro una parentesi proprio sul nodo 0. Metto questo trattino per far capire che sto parlando del nodo 0. Dunque, quando voi avete una rete e la volete descrivere come una netlist, siete, diciamo, tenuti a andare a dare un'etichetta a tutti i nodi. Questa etichetta può essere un numero oppure una lettera, a vostro piacere. C'è solo un vincolo. Il vincolo è che deve sempre essere presente il nodo 0. Deve sempre essere presente. Ok? Quindi io qui vi scrivo che il nodo 0 deve sempre essere presente. È un nodo di riferimento e quindi sfrutto questo primo esempio per dirvi che da qualche parte nella vostra rete deve essere presente il nodo 0. Dopo aver definito il nodo 0, tutti gli altri li potete definire come volete. Andiamo quindi a descrivere questa rappresentazione nella nostra netlist. È un resistore e quindi va descritto con un nome che coincide con la lettera R. Nel nostro caso il resistore è il resistore 5, quindi facciamo seguire il nome al numero 5 e ora dobbiamo scegliere n più ed n meno. Li possiamo scegliere in modo totalmente arbitrario, ma poi questo nodo n più e questo nodo n meno stabiliranno una convenzione di studio a cui ci dobbiamo ottenere. Supponiamo di scegliere F come nodo positivo e 0 come nodo negativo. Seguirà il valore 3.4 a cui non è necessario aggiungere un'unità di misura e non ci sono variabili ausiliarie. Quindi R5 F0 3.4. Questo è il valore. Ora, visto che vi ho parlato di convenzione n più ed n meno, andiamo a parlare di cosa ci dobbiamo aspettare in output. Siccome n più è stato scelto come nodo F, n meno è stato scelto come nodo 0, noi abbiamo definito questa come tensione di studio per il nostro resistore. Una tensione che ha la polarità positiva sul nodo convenzionalmente positivo e una polarità negativa sul nodo convenzionalmente negativo. Tutto questo, sommato al fatto che tutti gli elementi sono analizzati in convenzione degli utilizzatori, implica anche la corrente associata a questo bipolo. Ricordiamoci che la convenzione degli utilizzatori è quella per cui la corrente entra nel nodo con polarità positiva della tensione, vale a dire entra in n più, cioè la corrente fondamentalmente è questa. Se vogliamo disegnarla sul componente, la disegniamo qua e questa è la corrente I. Questa V e questa I sono quelle associate a questo resistore e sono quelle che dobbiamo avere bene in mente quando il nostro solutore ci dirà che quella V e quella I hanno un ben preciso valore, ok? E questo è tutto per quanto riguarda il resistore. Andiamo al condensatore. Il condensatore si descrive con la lettera C, quindi questo è il nome per ogni condensatore. In questo esempio abbiamo il condensatore numero 2, quindi il numero è il numero 2. N più ed N meno li scegliamo, come vi ho detto in precedenza, in modo arbitrario. Ad esempio qui possiamo scegliere K e H, questo è N più, questo è N meno e poi abbiamo un valore. Il valore è 123, ma sono 123 microfarad, quindi dobbiamo scrivere 123 per 10 alla meno 6. Sarebbe molto scomodo scrivere questo numero. Ci viene in aiuto il fatto che possiamo utilizzare i prefissi delle unità di misura. Ad esempio qui la lettera U corrisponde al simbolo micro. Questo 123 U si intende come 123 micro, microfarad, perché stiamo parlando di un condensatore. In questo caso possiamo parlare anche di variabili ausiliarie. Prima però andiamo a rappresentare la tensione, la corrente associata a questo bipolo. La tensione questa volta è questa, tensione V, perché abbiamo scelto N più come K ed N meno come H. Di conseguenza la corrente entra in R più e poi ce la troviamo qua. Il condensatore sappiamo che è un bipolo dinamico e ha una variabile di stato. La variabile di stato è soggetta a continuità e in alcuni problemi dell'elettrotecnica noi dobbiamo imporre delle condizioni iniziali. Ad esempio dobbiamo o possiamo imporre il valore in T uguale a 0 che magari chiamiamo V0. Questa è la condizione iniziale. La variabile ausiliaria è quella che ci permette di definire questo valore iniziale con la dicitura IC che significa Initial Condition e poi dobbiamo mettere il valore. Io adesso qua ci metto un valore a caso che è 2,3. Questo significa che noi abbiamo imposto questo valore pari a 2,3 V. Attenzione che questo 2,3 si porta dietro una convenzione di studio che è quella definita dai nodi N più ed N meno. Quindi questa tensione in T uguale a 0 ha una condizione iniziale di 2,3 V. Se non mettiamo nulla e il solutore, diciamo, il tipo di soluzione che richiediamo ha necessità di una condizione iniziale, bene, se non mettiamo nulla lui implicitamente impone qua un valore nullo. Andiamo ora sull'induttore dove facciamo il giochino al contrario. Visto che è molto simile all'induttore, io qui riporto già una stringa dove il nome è la lettera L, il numero è il numero 8, il nodo N più e il nodo 5, il nodo N meno e il nodo 3. Il valore sono 5,3 M, quindi vuol dire milli. Questa M è un altro prefisso che significa milli e abbiamo una condizione iniziale come dato ausiliario. Tentiamo di decodificare questa linea della netlist e andare a rappresentare qui graficamente quello che mi rappresenta. Il nodo più è il nodo 5, il nodo meno è il nodo 3, quindi la tensione di studio per questo componente è questa. La corrente quindi, in maniera del tutto implicita perché è associata in convenzione degli utilizzatori, è questa. Cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che l'induttore, un componente dinamico, ha una variabile di stato. La variabile di stato è la corrente in questo caso, quindi noi potremmo andare a ipotizzare che il nostro problema abbia un valore iniziale I0. E questo valore I0 l'abbiamo imposto qua. Quindi sappiamo dalla netlist che stiamo dicendo che la corrente iniziale è 2,3. Attenzione perché c'è una M anche qua, quindi questi sono dei milli ampere. ed ecco che questa volta abbiamo fatto il passaggio inverso. Siamo passati dalla netlist, scusate, sì, dalla netlist al circuito. Generatore ideale di tensione. Qui volendo essere precisi manca un generatore ideale di tensione. Questo è un generatore ideale. Come si rappresenta? Si rappresenta con la lettera V. Attenzione perché voi negli esercizi o nei circuiti che dovete risolvere magari trovate dei generatori che non si chiamano con la lettera V, si chiamano con la lettera E, magari, per fare un esempio. Ma nella netlist, per poter identificare un generatore ideale di tensione, serve sempre la lettera V, quindi V. In questo caso abbiamo V5, n più n meno. La scelta è sempre arbitraria, ma qui diventa un po' meno arbitraria, lasciatemi dire. Diciamo che c'è una scelta più comoda in questo caso. Il generatore ideale di tensione ha una polarità positiva che punta verso il nodo F, quindi è abbastanza naturale scegliere questo come nodo con polarità positiva e questo come nodo con polarità negativa. Perché? Perché così diventa questa la tensione di studio, V. E poi, attenzione, pur essendo questo un componente attivo, il nostro solver SPICE lo studierà in convenzione degli utilizzatori, quindi questa sarà la corrente. E l'equazione costitutiva diventa che V è uguale a V5 qualunque sia la corrente I. Questa è l'equazione costitutiva del nostro generatore ideale di tensione analizzato in convenzione degli utilizzatori. Dunque, n più, quindi abbiamo capito che è comodo scegliere il nodo F e nemmeno il nodo A. Questo, questo, sono il nodo più, il nodo meno, valore. Il valore è 11.5. In questo caso sono dei volti, quindi non serve aggiungere altro. Variabili ausiliarie. Esiste la possibilità qui di inserire delle variabili ausiliarie per delle simulazioni specifiche su cui io qui non mi dilungo perché non voglio arrivare a questi livelli di dettaglio. Detto questo, queste sono le condizioni minime per poter descrivere un generatore ideale di tensione. Vi faccio notare che la scelta di n più ed n meno è comunque arbitraria. Semplicemente questa è la più comoda. Io posso comunque invertire questi due nodi, quindi mettere A e F, a patto che qui poi cambio il segno a questa variabile e ci metto meno 11.5. Capite che è molto scomodo e anche controintuitivo, per cui la scelta più logica è quella che adesso vedete qui rappresentata. Andiamo avanti con un generatore di corrente. Il generatore di corrente si identifica nelle netlist con la lettera I. Vale lo stesso discorso di cui prima potreste trovare tranquillamente dei generatori di corrente chiamati in altro modo, ma nelle netlist si identificano con la lettera I, solo e soltanto con la lettera I. Questo nel nostro esempio è il generatore di corrente I9. Adesso dobbiamo scegliere n più ed n meno. Anche qui un attimo di attenzione, perché I9 è una corrente che va da 2 a 7, vale a dire che questa sarà la corrente di studio del nostro generatore e viene imposta pari al valore 9, qualunque sia la tensione ai capi del nostro generatore. Una tensione che sarà questa, perché questa corrente e questa tensione devono essere in convenzione degli utilizzatori. Vale a dire che la scelta più comoda è quella che vede il nodo 2 come nodo N più e il nodo 7 come nodo N meno, perché la corrente in convenzione degli utilizzatori entra in N più. Quindi come vedete questa corrente è entrata nel nodo 2 che è N più. Qui ci mettiamo 2 che è N più seguito da 7 che è N meno seguito dal valore che è 3.3 e questi sono dei milliampere. Anche in questo caso ci potrebbero essere dei valori ausiliari su cui non mi dilungo perché non voglio andare in questi dettagli in una presentazione che ha come concetto spiegare come si scrive una netlist. Andiamo oltre. Abbiamo finito la carrellata dei componenti di base. Adesso dobbiamo imparare come dire al nostro solutore cosa ci aspettiamo in output. Ad esempio, se noi abbiamo un circuito con generatori di tensione, generatori di corrente, resistenze e vogliamo sapere quanto vale la tensione e la corrente su ognuno di questi componenti significa che stiamo cercando il punto di lavoro, che in inglese si dice operating point ed ecco che la direttiva spice per dichiarare che vogliamo il punto di lavoro è .op. Possiamo mettere questa come ultima riga della nostra netlist. Non è necessario, qui c'è un errore direi. Non sono necessari altri parametri oltre a .op, quindi basta scrivere .op e in output avremo valore di tensione corrente associati ad ogni bipolo. Per la verità, se dovessi aprire una parentesi, il solver calcolerà il potenziale a tutti i nodi e da questo potenziale sarà in grado di calcolarsi tutte le tensioni e poi successivamente con le equazioni costitutive tutte le correnti. un'altra direttiva è la direttiva .tran. Immaginatevi di avere un circuito con un generatore di tensione, una resistenza e un condensatore e volete studiare la carica del condensatore. Il grafico che potete ottenere è più o meno questo qua, come vedete una tensione che ha una condizione iniziale che poi evolve verso un valore in maniera asintotica. Chiaramente questo risultato è un risultato grafico dove analiticamente questa funzione è continua. Ma quando fate un conto, quindi una simulazione oppure delle misure, ma qui stiamo parlando di simulazioni, poi andate a discretizzare questa curva in punti. Quindi andate a quantificare il valore di questa funzione in un certo numero di punti e andate ad approssimare questo andamento continuo con un numero di punti limitato e poi tracciate la curva come se fosse una spezzata. In pratica dovete dire al solutore che volete studiare il vostro problema a partire da zero fino ad un determinato valore, ok? Oltre non andrete a studiare il vostro problema. Questo valore lo chiamiamo t-end e dovete anche dire al vostro solutore come volete procedere da zero a t-end, quindi con quale passo si chiama volendo passo di integrazione. In inglese questo si chiama step ed ecco che compare il punto tran seguito dal passo e seguito dal t-end. Vi faccio un esempio semplice semplice. Supponiamo di voler studiare un circuito fino a 10 secondi con passo 1. Questo significa che voi andrete a quantificare questa funzione in 0, 1, 2, 3, 4 e così via fino al secondo 10. L'ulteriore direttiva e anche l'ultima è la punto AC significa che vogliamo studiare il circuito in corrente alternata e vogliamo visualizzare la soluzione al variare della frequenza. Mi spiego meglio, visto che questo argomento è un argomento molto specifico. In alcuni casi i generatori presenti in rete impongono delle forme d'onda sinusoidali ad una determinata frequenza. Se variamo la frequenza cambia la soluzione di rete. ad esempio qui possiamo essere interessati a visualizzare il modulo di una certa tensione al variare della frequenza tra una frequenza f1 e una frequenza f2, una frequenza iniziale e una frequenza finale. Bene, anche in questo caso la forma d'onda è continua ma noi andiamo a discretizzarla in punti. Ok? Vado oltre e arrivo fino a qua. Qui ne avevo saltati alcuni e li faccio. Ora io su questo non darò eccessivi dettagli ma vi posso dire che in questo caso specifico dove stiamo analizzando le frequenze in alcuni casi potrebbe essere comodo procedere con un andamento lineare e quindi avere n punti tra la frequenza f1 e la frequenza f2 oppure in andamento logaritmico. Quando andiamo con andamento logaritmico possiamo decidere di procedere equispaziando tra frequenze diciamo che hanno dei multipli di 10 e quindi utilizziamo il concetto di decadi oppure multipli di 2 e quindi utilizziamo il concetto di ottave. In questo caso n diventa il numero di punti per decade o il numero di punti per ottava. Tutti argomenti molto specifici su cui io adesso non mi dilungo. Vi voglio solo dire che esistono dei casi in cui magari noi siamo interessati a capire cosa succede ad una determinata frequenza. La chiamiamo ad esempio f asterisco. In questo caso è possibile scrivere punto AC. Il tipo non è più di nostro interesse visto che non vogliamo andare da una frequenza minima a una frequenza massima ma vogliamo un solo punto, neanche il numero di punti perché sarà solo uno e quindi qua ci mettiamo f asterisco. Siamo obbligati a definire anche gli altri valori ma sono ininfluenti. Pertanto qui ad esempio possiamo scrivere lin che è quello per l'andamento lineare il numero di punti potrebbe essere un qualunque numero di punti ma diciamo che mettiamo 1 perché è quello che ci interessa e qui potremmo mettere una qualunque frequenza perché tanto se il punto è 1 partiremo da f asterisco e poi non andremo avanti. Però per chiarità, scusate, per chiarezza secondo me conviene ripetere due volte f asterisco. Quindi punto AC, lin, 1, f asterisco, f asterisco diventa il modo con cui andare a simulare una singola frequenza ad esempio AC, lin, 1, 50, 50 se facciamo un passo indietro eccoci qua AC, dec, perché tanto è ininfluente 1, 50, 50 significa che qui stiamo simulando solo la frequenza a 50 Hz ok, siamo arrivati alla fase dei commenti è possibile inserire dei commenti nelle netlist se iniziamo una riga con il carattere asterisco questa non verrà letta ok, verrà saltata e qui ci possiamo annotare delle cose di nostro interesse se invece in una riga vogliamo che da un certo punto in poi tutte quelle informazioni non vengano lette dal solutore SPICE allora mettiamo un punto e virgola e da lì in avanti questo diventa un commento e non verrà letto vi spiego magari a breve nell'esempio che stiamo per fare perché potrebbe essere utile mettere dei commenti allora, tentiamo di analizzare questo circuito che è anche un circuito un pochettino complesso da visualizzare perché voglio farvi vedere qual è l'utilità di scrivere la netlist abbiamo un generatore di corrente del valore di 2 mA e tre resistori R1, R2, R3 3, 5, 7 K dunque noi dobbiamo identificare un nodo di riferimento il nodo 0 mettiamo questo come nodo 0 poi dobbiamo andare a dare un'etichetta a tutti gli altri nodi supponiamo di chiamare questo come nodo A questo come nodo B questo come nodo C adesso osserviamo che tutta questa parte del circuito che vado a evidenziare in giallo è equipotenziale e tutta questa parte del circuito che vado ad evidenziare in verde è equipotenziale ora notiamo che la parte in verde e la parte in giallo vanno a toccare entrambe due nodi del circuito la parte in giallo tocca il nodo 0 e il nodo B vale a dire che il nodo 0 e il nodo B sono equipotenziali si dice che questi due nodi sono elettricamente coincidenti quindi anche se fisicamente qui vengono rappresentati in due posizioni differenti la presenza di questo cortocircuito li rende equipotenziali dal punto di vista elettrico sono esattamente lo stesso nodo quindi se noi incontriamo il nodo 0 lo chiamiamo come nodo 0 ma se noi incontriamo il nodo B in realtà il nodo B non è un nodo diverso è ancora il nodo 0 nello scrivere la netlist terremo conto di questo se leggiamo B comunque andremo a scrivere 0 da questa parte vale la stessa cosa la parte in verde tocca sia il nodo C che il nodo A vale a dire che sono elettricamente coincidenti e tanto vale chiamarli sempre allo stesso modo ad esempio li chiamiamo sempre in modo diciamo col nodo A adesso è sufficiente andare a scrivere ogni componente di questa diciamo andare ad analizzare ogni componente di questa rete e scrivere la netlist quindi proviamo a scrivere la netlist il primo componente il generatore di corrente un componente a cui dobbiamo prestare subito un po' di attenzione perché questo componente è connesso tra il nodo 0 e il nodo C e vi ricordo chiameremo nodo A però adesso qua lo chiamo ancora C e la corrente è una corrente che ci vogliamo ritrovare qui ok? questa è la corrente I uguale ad A1 una corrente che entra nel nodo 0 che quindi deve essere associata in convenzione degli utilizzatori ad una tensione fatta così quindi questo sarà il nodo più e questo sarà il nodo meno per il nostro componente generatore di corrente il generatore di corrente nella netlist si identifica con la lettera I quindi andiamo a chiamarlo I1 nonostante lui nel circuito si chiami A1 abbiamo detto che il nodo più è il nodo 0 il nodo meno è il nodo C ma abbiamo anche detto che il nodo C coincide con il nodo A nella netlist utilizziamo solo il nodo A il valore è pari a 2 mA 2m utilizziamo subito un commento così ne capiamo l'utilità visto che abbiamo questa ambiguità perché qui il componente si chiama A1 e qui si chiama I1 possiamo mettere un punto e virgola quindi da qui in avanti non verrà letta questa informazione e teniamo conto del fatto che abbiamo cambiato una variabile ciò che qui chiamiamo I1 nel nostro circuito scusate non si chiama A2 chiaramente ma si chiama A1 ed ecco l'utilità a volte di annotare nella netlist qualcosa che è presente sul circuito poi abbiamo i resistori quindi R1 R1 qui non dobbiamo porre particolare attenzione alla scelta dei nodi è connesso tra A e 0 e quindi possiamo andare a riportare A 0 il valore di R1 sono pari a 3 k quindi basta scrivere 3k R2 R2 è connessa tra ad esempio A e B quindi ancora una volta andiamo a scrivere A e B ma non scriviamo B perché B è il nodo 0 R2 vale 5 kOhm R3 è un resistore connesso tra C e B C coincide con il nodo A B coincide con il nodo 0 magari visto che è arbitrario questa volta scrivo che è connesso tra 0 ed A ok? quindi un po' come avere interpretato questo resistore è connesso tra B e C tra nodo 0 e tra nodo A il valore è pari a 7 kg supponiamo di voler calcolare il punto di lavoro quindi andiamo a scrivere punto OP che è la direttiva SPICE più semplice ed ecco che questa è la nostra netlist di per sé questo esercizio potrebbe concludersi qua ma io voglio ancora farvi notare come la netlist rende in maniera palese ed evidente rende merito a quelle che sono le connessioni circuitali questo circuito inizialmente non era così semplice da capire ma adesso che abbiamo scritto la netlist è veramente immediato comprendere che tutti questi elementi sono connessi tra la stessa coppia di nodi cioè sono tutti in parallelo se adesso provassimo partendo dalla netlist a ridisegnare il circuito sono sicuro che lo andremo a disegnare in maniera decisamente più comprensibile perché ad esempio partendo dal generatore di corrente noi potremmo disegnarlo in questo modo dove questo è il nodo 0 questo è il nodo A e questa è la corrente A1 dopodiché andremo a prendere la resistenza R1 la resistenza R1 è connessa anche lei tra la coppia di nodi A e 0 quindi questo è il nodo A questo è il nodo 0 ed ecco che questi sono connessi e poi abbiamo la resistenza R2 e infine la resistenza R3 ancora connessi tra A e 0 ancora connessi tra A e 0 mi pare chiaro che questo circuito corrisponde a questa netlist e a questa netlist corrisponde questo circuito quindi questi due circuiti sono identici faccio una piccola precisazione proprio perché qui ho cambiato la convenzione di studio di R3 se noi simulassimo questo circuito con questa netlist dopo dovremmo interpretare i risultati in questo modo per quanto riguarda la resistenza R1 N più è il nodo A quindi questa è la tensione con cui stiamo studiando il resistore 1 la chiamo V1 e questa di conseguenza in convenzione degli utilizzatori è la corrente I1 per quanto riguarda il resistore 3 abbiamo fatto una scelta opposta ricordo che questo è il nodo 0 questo è il nodo A se vogliamo essere ancora più espliciti il nodo 0 era quello che abbiamo rappresentato in giallo il nodo A è quello che là sopra abbiamo rappresentato in verde torniamo alla convenzione del resistore R3 la convenzione è questa questa la chiamo V3 questa volta e chiaramente in convenzione degli utilizzatori abbiamo I3 ora siccome V1 e V3 sono al netto del segno la stessa differenza di potenziale perché in un caso sono potenziale al nodo A meno potenziale al nodo 0 in un caso potenziale al nodo 0 meno potenziale al nodo A è chiaro che V1 e V3 sono uguali e opposte ed è quello che ci dobbiamo aspettare nel momento in cui simuliamo questo circuito con diciamo con queste notazioni e questo conclude la presentazione di oggi vi lascio con una serie di link vi ricordo che metterò il pdf a vostra disposizione con un link per il download nella descrizione di questo video di conseguenza qui avrete tutti i link cliccabili dove come vi dicevo il progetto Spice Pie ha una documentazione dove sono presenti tutte le informazioni e anche di più rispetto a quelle che io vi ho raccontato in questo video ci sono anche degli esempi quindi ci sono molte reti che sono associate ad una netlist che voi potete andare a visionare per fare pratica con la scrittura delle netlist dopodiché parlando sempre del progetto Spice Pie lui ha una pagina principale e ha di nuovo una documentazione quindi questi due link sono molto simili qui vi linko direttamente la netlist qui vi linko tutta la documentazione del progetto e poi c'è il progetto Spice Pie Bot con progetto documentazione statistiche d'uso questi ultimi due punti saranno oggetto di due video dedicati che al momento non ho ancora registrato ma quando avrò registrato vi metterò il link nella descrizione i link saranno diciamo i video saranno focalizzati sull'utilizzo di Spice Pie e l'utilizzo di Spice Pie Bot e con questo chiudo e vi saluto e vi saluto e vi saluto